Siamo al Salone del Gusto, andando a cercare le cucine di strada, cioè dei posti dove avremo il piacere di assaggiare le specialità italiane, non tutte, italiane e anche internazionali. E le assaggeremo davvero tutte? Abbiamo già iniziato veramente, vabbè qua abbiamo delle specialità del burro di strada. Agnolotti! Agnolotti alpina, il burro è secco. Agnolotti, pinguini, magro ricotta e scopo. Siamo. Siamo alla schiena romagnola. Schiena romagnola. Cosciutto, salame e scopo. E invece dove siamo? In Sardegna. 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 Pastificio della provincia di Sassero. Seano, stupite salve. Andiamo avanti? Sono dolci. Sardegna. Ah, sono dolci? Sì, dolci, tipici salve. Sardegna. 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 Consorzio focaccia. La focaccia di urecco col formaggio, buonissima, questa la proviamo. Proviamo? Mmm, voglio provare prima le bombette. Va bene. Proviamo le bombette. Bombette e puglietti. Molise non c'è ancora niente. Aspettile, ho un minestrone di faro. Attenda. Un? Facciamo un assaggino. Wow. Minestrone di faro, prego. Grazie. E qui devo soffare un attimo. Scusate.